Assessore, l'Open Day AstraZeneca ha avuto un grande successo a Pescara, prenotazioni esaurite? Sì, 3500 prenotazioni esaurite già da questa mattina, due ore il primo giorno, cioè quello delle mille prenotazioni di ieri, oggi 900 somministrazioni di dosi AstraZeneca e oltre alla programmazione ordinaria per quanto riguarda le prenotazioni per facilità di poste, che viene gestita da poste, i fragili che vengono gestiti anch'essi dal comune di Pescara e i richiami delle seconde dosi sia per le oltreottantenne che per i fragili sono in essere. Ieri c'è stata una prova importante per la città di Pescara dove ha risposto tutta la struttura efficientemente perché non ci sono stati disagi, non ci sono state code e il messaggio da Pescara è partito, siamo pronti, vogliamo avere più dosi di quelle che ci sono programmate per la nostra città perché praticamente ci siamo attrezzati e organizzati per tempo e vogliamo raggiungere l'immunizzazione di gregge sulla città di Pescara il prima possibile. Ieri c'è stato anche un riferimento sull'AstraZeneca Day, io direi AstraZeneca Week visto che dura fino a venerdì, anche per le persone che sono residenti in provincia, quindi Pescara è diventata il centro di riferimento della vaccinazione non solo pescarese ma addirittura provinciale. Abbiamo dato dimostrazione che gli enti devono collaborare, l'abbiamo fatto per i tamponi e lo stiamo facendo per le vaccinazioni. Stiamo remando tutti verso lo stesso risultato che è quello di mantenere salvi le vite dei cittadini di Pescara e se mi consentite anche dell'intera provincia. Questa collaborazione deve essere l'allarma vincente, la spiegazione di quello che è stato il risultato eccellente di ieri.